Buongiorno, scusate ma non era previsto, ma mi sembrava giusto farlo. Allora, sapete che il reddito di emergenza è ufficiale, anche se il decreto rilancio non è ancora stato pubblicato, il decreto riguardo il reddito di emergenza è ufficiale. Mancano le procedure, le procedure che devono essere stabilite dall'Inps, però, in attesa che emergano queste procedure, qualcosa che potete fare subito. Punto 1, procuratevi subito, per chi non ce l'ha, l'ISEE. Capisco che alcuno, magari perché ha fatto la domanda del reddito di cittadinanza, o gli è decaduta, o c'erano delle difformità, potrebbe già avere quella del 2018, però non credo che si utilizzerà quella del 2018, perché questo provvedimento, ha un corto respiro, 2-3 mesi al massimo, più probabile 2, e dovrebbe riguardare la situazione economica attuale, cioè è un provvedimento fatto non per chi ha il reddito di cittadinanza, ma per chi, magari prima aveva un reddito e adesso non ce l'ha. Ovviamente in quella categoria rientrano anche quelli a cui è decaduto il reddito, tanto per fare un esempio, che devono rifare la domanda, e visto l'intasamento e l'inalzamento delle soglie, potrebbero dover aspettare 2-3 mesi. Per cui fatevi fare l'ISEE anche nel 2019. Se ce l'avete già, bene, ma se non ce l'avete, fatevi fare anche l'ISEE del 2019. L'INPS dovrebbe attivare una convenzione con CAF e patronati per effettuare le pratiche di domanda del reddito d'emergenza, ma siamo ai dovrebbe perché finora manca la procedura. Senza procedura qualsiasi informazione è assolutamente un'ipotesi, una congettura, però siccome è una cosa che riguarda, che dipende dal vostro reddito, l'ISEE serve in ogni caso. Quindi lunedì mattina cominciate a prenotare al CAF la preparazione dell'ISEE. Chi ha già quello del 2018 faccia fare quello del 2019, così è coperto. Chi non ha né uno né l'altro, io fosse il vostro posto di fare tutti e due. Non si sa mai, non si sa mai perché qui veramente si lavora un po' alla cieca. Li fate entrambi, siete coperti, poi eventualmente si può, utilizzando l'ISEE 2018, non trarre la domanda del reddito di cittadinanza, nel momento in cui alzano i parametri. Perché finora anche qua c'è l'inalzamento dei parametri, è nella bozza, è nella bozza del decreto, il famoso papiro che è scaricabile, ma fino a che non è in gazzetta ufficiale non vale. Nel momento in cui compare un gazzetta ufficiale è automaticamente e immediatamente esecutiva. Fatevi subito, prenotate subito l'ISEE e chiamate subito i patronati, perché purtroppo lavorando in condizioni di difficoltà e lavorando soprattutto su appuntamento, c'è il rischio che le procedure si allunghino molto. Prima prenotate l'ISEE, meglio è. Poi dipende, magari il patronato dice adesso non sappiamo ancora cosa fare, ma intanto prenotate, l'ISEE comunque serve, non è una cosa funzionale per forza. L'ISEE lo fate, poi se necessario, se il patronato ha fatto la convenzione, fate lì al patronato, al CAF, la domanda per il reddito di emergenza o per il reddito di cittadinanza, nel caso rientriate nei nuovi parametri e la vostra situazione economica rischia di portarsi nel tempo, perché ve l'ho detto il reddito di emergenza fa due, massimo tre mesi, è out. Ragionate anche su questo. Se la vostra situazione rischia di portarsi molto nel tempo, preparatevi a fare entrambe le domande, intanto quella del reddito di emergenza e poi quella del reddito di cittadinanza con i nuovi parametri. E una cosa su cui non so assolutamente, non vi posso assolutamente rispondere è se l'innalzamento dei nuovi parametri farà aumentare anche le carte, perché non lo so, non lo so, non lo so. Non è una cosa su cui posso rispondere. Fiamo restando che anche in caso di innalzamento non supererebbero il tetto massimo previsto, quindi per i single 500 euro, per le copie 700-800, non ricordo neanche più, perché ormai li cambiano la mattina o la sera. Fate immediatamente questa cosa. Preparate già tutti i documenti, preparateli adesso. Oltre all'ISE, per fare l'ISE non è che basta andare a fare una dichiarazione, dovete portare tutta la documentazione, nel caso specifico, qual è il 2019, e se magari avete ricevuto dei contributi dai comuni o da altro, dovete procurarvi la coppia di quei contributi. In quel caso, visto che i comuni lavorano anche qui a scartamento ridotto, anche lì vi conviene prenotare al comune e presentare la domanda per ricevere la documentazione necessaria. Tenete conto che se viene rispettato ciò che è scritto nella bozza del decreto, la scadenza ultima per presentare la domanda per il reto di emergenza è il 30 giugno 2020. Dopo non si può più. Altra cosa importante, però che è meglio che la capiate, io non so quando verrà erogato. Perché non è una cosa che posso stimare. Dipenderà dalla massa di domande, dipenderà dalla velocità di elaborazione, dipenderà da tante cose, dipenderà soprattutto da un fatto che è incontestabile. Queste domande del reddito vanno a sommarsi a quelle del reggio di cittadinanza, vanno a sommarsi a tutte le pratiche delle CIG, a tutte le pratiche dei bonus, a tutta questa massa di pratiche che viene gestita sostanzialmente solo dall'Inps. Mentre una parte di quelle pratiche potrebbero essere gestite dall'agenzia delle entrate. Quindi il rischio che le cose vadano per le lunghe c'è. Cioè, alcuni di voi lo hanno visto in questi mesi, anche senza l'emergenza con Covid. Quanti di voi hanno ricevuto gli arretrati una volta sistemate le pratiche con l'Inps per il reddito? Vi siete accorti che è passato troppo tempo? Quindi fatelo in fretta, fatelo il prima possibile. Se avete dei dubbi, io spero che uno ci sia il decreto in gazzetta ufficiale, che me lo leggo tutto e poi nel live cercherò di spiegarvi cosa ho capito. Perché, grazie, uno potrebbe avere dieci lauree in semantica, ma io non so chi scrive quella cosa, cosa fuma o cosa si inietta. Perché, solo a leggere la bozza, uno prega tutti i suoi dei, perché almeno non impazzisca. Io vi lascio, vi auguro un buon fine settimana, ci sentiamo più presto e poi vi atto mercoledì e giovedì la live. Ciao a tutti!